Ciao a tutti, buon pranzo per chi sta pranzando e per me se ne troverò bene, il sole alto, è l'1.20, l'1.18, questa mattina l'abbiamo visto sorgere il sole e questa vi posso comunicare una giornata bellissima, quando si termina un lavoro impegnativo c'è un grosso momento di relax, a volte dura poi pochi minuti o poche ore, ma comunque me lo sto godendo, abbiamo finito l'ingambiamento in tutte le regine, è iniziato l'1 o 2 di luglio, è una fase importantissima per un apicoltore, determinante, come ho accennato altre volte, determinante perché ha a che vedere con la salute, con la salute e il benessere di tutti i nostri alveari di tutte le nostre apine e di tutte le nostre regine e perciò è così che si pongono delle buone basi per continuare a lavorare onestamente, serenamente e piacevolmente, perché se ci si riempie invece di problemi con le api, con le regine e con gli alveari diventa il lavoro è ancora una cosa brutta e invece bisogna mantenerlo bello. Bello gratificante, impegnativo, sudare, 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 sudare sia in laboratorio che in campagna, adesso vi immaginerete perché a luna e venti del 11, cos'è oggi 10, 11 di luglio, ci saranno fuori 35, 38 gradi e adesso sono in macchina comodamente senza neanche la rimezionata accesa, ma fino a mezz'ora fa ero in campagna sotto il sole, con la maschera, a volte quella più grande, a volte quella più piccolina, in base a come erano le regine, in base a come erano le api, come stavano le api e comunque è bello, abbiamo finito, vado a casa, se tornerò da pranzare sarò felicissimo, ho già bevuto 3 o 4 o 5 litri di acqua e sali minerali e vitamine, è stupendo. Ciao a tutti, buona giornata, buon fine settimana, ci vedremo con i prossimi lavori, ciao!